Credi che il suicidio sia un atto di coraggio? Ma io credo che per vivere come per morire sia necessario del coraggio. Ma il coraggio, cieco, per me il vero coraggio consiste nell'avere il coraggio dei propri sacrifici. Chi si toglie la vita non è un debole. Quando il genere umano sarà libero e felice, allora potrà essere anche un eroismo togliersi la vita. Per ora no! Spiro, Spiro, io non volevo dispiacerti. Scusa. Scusa, una persona che mi è cara ha tentato di suicidarsi. Per fortuna sono arrivati in tempo. Non sapevo, scusa. Ma perché l'avrebbe fatto? Non lo so, non lo so. Non riesco a capire. Il sentimento che provo per lei mi ha fatto sdegnar spesso sulle sue assurdità e pazzie. Una donna? Sì, è stata lasciata da un uomo che fu ucciso a Milano. Sciocchezzi di donne.